Utilizzando i dati condivisi dall'osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vera Engineering possiamo analizzare la situazione aggiornata al mese di marzo scorso. Una mappatura del rischio infortuni sul lavoro suddivisa per aree di fragilità. Si osserva come sull'incidenza di mortalità pari alla media nazionale la Sicilia si colloca al limite della zona gialla nella mappatura dell'emergenza ovvero quella in cui subito dopo la bianca si trovano le regioni con un rischio di mortalità meno preoccupante rispetto al resto del paese. Stiamo parlando di un indice di incidenza di mortalità per milione di lavoratori pari a 6.4 uguale al dato medio nazionale. La zona gialla quella in cui si trova la Sicilia nella sua media per territori è la zona che raggruppa le regioni con l'incidenza di mortalità sul lavoro tra le meno elevate a livello nazionale. Per quanto riguarda le incidenze nel dettaglio in regione si scopre che Agrigento, Palermo e Trapani si trovano in zona rossa mentre Catania e Messina sono in zona gialla e in zona bianca le province di Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa tutte con un'incidenza di mortalità pari a zero sempre riferendoci al dato aggiornato in marzo. La sanità è il settore più colpito in Sicilia nel 2024. La sanità è in cima alla graduatoria delle denunce di infortuni o in occasione di lavoro 505 seguita dalle costruzioni 353 denunce e dal commercio all'ingrosso e al dettaglio 329 in questo caso. Ma cos'è l'incidenza degli infortuni? L'incidenza degli infortuni mortali indica il numero di lavoratori deceduti durante l'attività lavorativa in una data area, regione o provincia ogni milione di occupati presenti nella stessa. Questo indice consente quindi di confrontare il fenomeno infortunistico tra le diverse regioni pur caratterizzate da una popolazione lavorativa differente. La zoonizzazione utilizzata dall'osservatorio sicurezza e ambiente Vega Engineering dipinge il rischio infortunistico nelle regioni italiane secondo una scala di colori. Il bianco indica le regioni con un'incidenza infortunistica inferiore al 75 per cento dell'incidenza media nazionale. Il giallo le regioni con un'incidenza infortunistica compresa tra il 75 per cento dell'incidenza media nazionale e il valore medio nazionale. L'arancione regioni con un'incidenza infortunistica compresa tra il valore medio nazionale e il 125 per cento dell'incidenza media nazionale. Ed infine il rosso le regioni con un'incidenza infortunistica superiore al 125 per cento dell'incidenza media nazionale.